Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Kim, il Napoli ha già individuato un possibile sostituto in caso di esonero. Il Napoli avrebbe individuato un possibile sostituto di Kim qualora il Napoli lo vendesse la prossima estate. Guardando alla prossima stagione, il Napoli dovrà assicurarsi una rosa di livello per Luciano Spalletti, qualsiasi giocatore che lascerà dovrà essere sostituito da giocatori all'altezza. Cristiano Giuntoli e lo scout azzurro sono già al lavoro. In tal senso, l'edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul futuro di Kim Minjiae, difensore del Napoli, e, in caso di addio, dirigenza del Manchester United, ha svelato un profilo che piace molto all'Azzurra. Intanto ci sono delle identità. In difesa, per esempio, Giorgio Scalvini è diventato un ponte da lanciare verso il futuro per chiunque, soprattutto per una società che ha sempre messo in piedi una politica giovanile. Il diciannovenne dell'Atalanta, uno che sa fare tante cose e non ce n'è una che non gli piaccia, appartiene a quella generazione di potenziali fenomeni da affrontare, qualora si aprisse una breccia nella difesa. Non dimenticare di iscriverti al canale di notizie del Napoli per gli ultimi aggiornamenti meteo. E se il contenuto ti è piaciuto, lascia il tuo like per supportare il canale e contribuire a diffonderlo a più persone. Il tuo supporto è molto importante per noi.